filmati noi faccio no ricassati aspetta che fa la foto ha portato via la mattonella di scale mobili guarda là scale mobili di Arezzo un tipico giugno del 2012 fa una denuncia qui la denuncia la denuncia abbiamo anche le prove faccio un filmatino una semplice ragazza del casentino di 34 anni ha gangiato un tombino delle scale mobili di Arezzo Fanfani ha portato via un affare del genere questo è il canale di scolo ma è stata brava ma ragazzi se uno lo mette no ma c'è le telecamere ma lo puoi lasciare questo che schifo c'è le telecamere uno a sé che cazzo puzza puzza scusatemi ma dove volevate andare se no fa le scale mobili perché Emilia non l'ha mai vista allora magari tu fai le scale mobili Emilia ascolta ascolta ascolta